Musica Parliamo ancora di raccolta differenziata, lo facciamo parlando della città di Cagliari e poi ci occuperemo anche di altri centri. Ieri abbiamo iniziato una lunga discussione con l'assessore Guarraccino che ci ha spiegato come funzionerà la raccolta differenziata e ha cominciato a parlare dei primi problemi o perlomeno non li avevamo posti e lui ci sta rispondendo, ci risponderà anche oggi. Sempre disponibile per chiarire qualsiasi dubbio che è necessario, soprattutto nelle fasi iniziali di adattamento. Lei è comunque contento di come sta andando la raccolta in generale? Avete raggiunto i risultati lusighieri? Allora io sono contento del fatto che abbiamo iniziato questo sistema e attenderò poi l'evolversi della situazione per dire se sono effettivamente contento. Però i primi risultati dicono che stiamo andando su una strada corretta. In una città dove è difficile già eliminare i parcheggi in doppia fila, voi non vi dovevate accontentare perlomeno per un po' di tempo dei risultati importanti raggiunti nella raccolta differenziata? Si parla del secondo posto in Italia, qualcuno come il sindaco da poco ha affermato che invece era il primo posto in Italia. Non potevate accontentarvi per il momento? Diciamo che non è logico accontentarsi se sappiamo che i cittadini vogliono migliorare e stiamo dando in qualche modo risposte ai cittadini. Soprattutto le esperienze, le buone pratiche che sono state prese a riferimento ci dicono che determinate azioni sono necessarie anche per mantenere quel livello raggiunto. Diversamente il livello raggiunto potrebbe decadere. Se potenzialete la rete del ritiro non ci saranno i soliti problemi di traffico con carreggiate che siano in base a tutte le ore del camion della devizia che devono comunque fare il loro lavoro? Abbiamo valutato anche questo aspetto, il potenziamento sarà molto limitato, non dovrebbe creare nessun problema al traffico proprio per il fatto che l'esposizione dei mastelli è già presente in gran parte della città. I mastelli del secco, la variazione se facciamo riferimento a questo aspetto riguarda solamente quella percentuale minima di condomini che hanno il bidone condominiale. Ma per esempio se consideriamo il quartiere di San Benedetto, Fonsarda, Santa Lenigedda già hanno il mastello singolo per cui nelle zone anche più centrali non c'è nessuna modifica. Ma non avete controllato quali sono i modi migliori per una risposta del cittadino? Per esempio i due depositi che ci sono nei fronti al mercato funzionano più o meno bene? Quelle sono delle modalità molto specifiche di parti della città che sono state inserite proprio lì perché essendoci il mercato di San Benedetto c'è un conflitto fra mezzi, quindi i mezzi della raccolta differenziata, i mezzi della nettezza urbana e i mezzi che operano nel mercato che in qualche modo ci hanno obbligato a trovare una soluzione alternativa. Ma è sicuramente più comodo esporre il mastello sotto il proprio portoncino che fare magari 100, 150 metri, 300 metri per portare la spazzatura. Forse per i gatti e per i gabbiani anche? Ebbè assolutamente sì, è meglio dentro il mastello questo non può avvenire ovviamente. Se uno lascia il sacco abbandonato, ma chi deve lasciare il sacco abbandonato non si mette scrupoli sul fatto che sia porta a porta o sia nell'ecoisola come si suole definire questo strumento. Era un po' allo sbando, era se voi ricordate piena di discariche un po' disseminate in tutti i contesti. Tutte le attività di correzione che abbiamo portato fino adesso ci hanno dato delle risposte positive. Questo è il sintomo del fatto che evidentemente i cittadini non erano stati correttamente ascoltati o correttamente contattati. Ora questo sta avvenendo e tutte le informazioni che stiamo dando per dare anche equità a chi fino adesso si è impegnato ci sta dando una risposta positiva. E questo va ovviamente anche a vantaggio dell'ambiente che tutti quanti moralmente siamo convinti di voler difendere. Poi qualcuno invece fa solo finta di difenderlo e si nasconde dietro le spalle degli altri per imbrattare, per sporcare e non avere rispetto.